Mr. Buglio, il Rimini è ancora malato, ci ha detto lunedì a calcio.basket, allora come sta, come procede il percorso, come procede la cura? La cura l'abbiamo iniziata da lunedì insieme alla società, insieme ai tifosi, ci dimentichiamo che l'ora è una parte importante di questo percorso. Io in settimana, fino a ieri, devo dire che stiamo migliorando su tutti i punti di vista e questa è la mia soddisfazione, la società è sempre presente anche negli allenamenti, nelle partitine di ieri con la Beretti. I ragazzi li vedo bene mentalmente e fisicamente, quindi sono molto fiducioso e soddisfatto di quello che stanno facendo fino adesso. Visto che siamo partiti dalla società e dai tifosi, ecco domenica c'è questa promozione molto bella, in tutti i settori del Romeo Neri i tifosi del Rimini, ovviamente tranne il settore ospiti, entreranno pagando un solo euro, quindi la società fa la sua parte per richiamare tutta la città a tifare Rimini e i tifosi della Curva Est proprio ieri hanno annunciato che continueranno a sostenere i biancorossi per tutti i 90 minuti di domenica. Voglio fare intanto un complimento al Presidente per quello che è veramente la sensibilità che ha in questo momento sia verso i tifosi che verso la squadra, verso l'allenatore, lo staff perché ci sta dimostrando tutto quello che è veramente addentro, la passione, il coraggio, iniziative come questa di domenica. I tifosi li voglio ringraziare in anticipo perché so che volevano e chiaramente non sono contenti, come ho detto domenica, gli ho chiesto scusa domenica scorsa per il risultato e per il momento negativo e ho apprezzato molto il fatto che loro domenica aiutano i ragazzi per cercare di raggiungere questo obiettivo della vittoria che manca da molto molto tempo, quindi io penso che loro è giusto che sostengono la maglia, è giusto che incidono i Rimini, è giusto che i ragazzi si sentono sostenuti, poi alla fine spero e mi auguro che ci sia questa soddisfazione del risultato pieno da parte di tutti. Domenica sarà una partita vitale, il primo spareggio di una lunga serie però perché da adesso alla fine il Rimini affronterà tutte le squadre che sono a pari punti con i Biancorossi e anche la Torres che è la non in classifica. Sì, è così, è così, ci dobbiamo far trovare pronti, dobbiamo metterci quello che ho detto all'inizio, dobbiamo avere più fame, più cattiveria ma soprattutto dobbiamo essere più cinici sotto porta perché è quello che poi è tutto il lavoro della squadra, si risolve facendo gol e con i gol si vincono le partite, quindi dobbiamo essere ancora più convinti, più cattivi e più affamati incominciando da domenica. A proposito di gol, domenica dovrebbe a questo punto tornare dal primo minuto, Nicastro dopo aver assaggiato il campo domenica scorsa a Ferrara. Sì, ieri da martedì che si allena con normalità, con continuità, ieri abbiamo fatto un amichevole con la Beretti, insomma sono andati in go tutti gli attaccanti e questo mi ha fatto molto piacere perché è un'autostima, un'autoconvinzione e un'energia positiva nella testa dei ragazzi. Nicastro ha fatto bene insieme a Falle e a Cesca e come tutta la squadra ha lavorato bene con la Beretti. Questo è un test che mi interessava per vedere anche lo stato d'animo e anche il fatto che abbiano fatto gol mi ha fatto molto piacere. Con il ritorno di Nicastro si può tornare anche al 4-3-3 di Osiana, se si può spassare il termine memoria perché era il modulo prediletto dal tecnico Marcosi. Sì, sicuramente domenica giocheremo così, non sto a formalizzare dei moduli, se questo è quello che funziona che ben venca, ma è un modulo dei Rimini, è un modulo di portare a casa un risultato e credo che non sia un modulo di Buglio, di Osio, ma è quello dei Rimini Calcio, è quella la cosa che io voglio trasmettere a tutti. Qui dobbiamo tutti ragionare per i Rimini Calcio e non per tutto il chiacchiericcio che c'è. Questa è la cosa più importante, la ripeto e la continuo a ripetere fino alla fine. Dobbiamo tutti lavorare per i Rimini Calcio, quindi il modulo è dei Rimini Calcio, non certamente mio o di qualcun altro. Per quello che riguarda i recuperi, rientra Gasperoni, però ci sono alcuni acciaccati e non ci saranno per squalifica Spinoza e Sartori. Spinoza tra l'altro non era neanche il top. Come stanno allora quelli che sono in forza, in dubbio? In dubbio l'unico è Ferrari, poi il resto Spinoza, Sartori, Baldazzi lo sapete, gli altri vittori sono fuori, sono fuori per infortuni o per squalifiche. Quindi sceglierò i 19 giocatori o i 20 che porterò in ritiro e poi ci prepariamo per questo match importante. La Virtus e Vecamp Verona, gli stessi punti del Rimini 35, il cammino delle due squadre è stato identico in questo girone di ritorno, 10 punti per tutte e due. Per quanto riguarda il Rimini, due nelle ultime quattro gare, uno nelle ultime cinque per Verona. Sì, sono due squadre che si equivalgono, quindi domenica chi ha più fame, chi ha più determinazione porterà a casa più punti. Non c'è una differenza tra le due squadre, l'hai detto te, i numeri sono quelli. E quindi noi il vantaggio che abbiamo è che giochiamo in casa davanti al nostro pubblico che ha dichiarato che ci sostiene fino alla fine. Quindi i ragazzi penso che su questo dovrebbero capire che fino alla fine siamo sostenuti da un pubblico caloroso. Con il tecnico presidente, anche questa figura anomala per il campionato italiano, insomma per il calcio italiano, Fresco ha sostenuto il corso a Coverciano. Allora, che cosa ricorda di questo allenatore? Beh, molta simpatia, è un personaggio, un personaggio da conoscere, da scoprire, perché, insomma, come hai detto te, per il nostro campionato è unico, no? Quindi intanto gli va fatto un applauso per quello che sta facendo, per quello che ha fatto con questa squadra, è un personaggio da scoprire. Quindi mi fa piacere rivederlo dopo tanti anni, però mi auguro e spero che Rimini vinca, poi chiaramente ci saranno altre occasioni perché lui si possa rifare. Grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti.